Ora chiudo e sintetizzo anch'io la nostra sponsorizzazione con una parola sola. La parola è orgoglio. Siamo orgogliosi ovviamente di essere cittadini monzesi prima di tutto e chi perché c'è nato, quindi monzesi e d'Oscar, chi perché abita e vive a Monza per scelta la milanese e sono felicissimo, è una splendida città, bellissima città con un asset che è la villa e il parco che sono straordinari mentre i quali ovviamente molte persone vivono proprio intorno al parco perché c'è questo patrimonio incredibile. Siamo orgogliosi ovviamente di rappresentare la reale mutua assicurazione perché è una compagnia straordinaria per noi, è una compagnia particolare, una mutua e quindi tutti gli assicurati sono soci ed è sostanzialmente una unicità sul panorama italiano e ci permette ovviamente di essere assicuratori pubblici. Siamo orgogliosi ovviamente di essere soci del Monza Marathon Team, è un'associazione straordinaria che ci dà sempre grossissime emozioni e che opera con una buondissima professionalità nell'attività che fa e nella promozione sportiva che fa e quindi era naturale essere orgogliosi di arrivare a posizione di tanto sponsor della Momot che fondamentalmente come stato detto stamattina da tutti gli interventi rappreserà a chiudere un po' tutte queste cose l'importanza di Monza Marathon Team e di tutta l'organizzazione. Ringrazio tutti quanti i presenti, lo staff, le autorità e vi auguro una buona gara.